Musica Io mi sono ritrovata in questo topo che mi saltava in faccia dal letto dei miei figli quindi è un... Ecco raccontaci, tu ci hai detto che è successo tutta una giornata di venerdì Sì, venerdì praticamente dopo che l'avevamo già visto questo topo che scappava per casa io ho cercato di seguire le tracce, quindi le feci dell'animale le ho ritrovate sul lettino dei bambini ho preso tutte le lenzuola per buttarle e a questo punto ho detto che devo buttare anche pelusci pelusci stavano al di sopra del letto in una mensoletta come ho alzato il peluscio questo topo è saltato fuori ovviamente mi è saltato in faccia penso per scappare, non lo so non lo so se mi voleva aggredire, so che mi è preso il panico e la prima cosa che ho fatto è stato indietreggiare indietreggiando ovviamente sono caduta su me stessa ho avuto un attimo di sbandamento perché il colpo che ho preso è stato molto molto forte non mi sono neanche resa conto che sanguinavo mi hanno dovuto soccorrere i vicini non avevo la forza di entrare in casa perché io come ho scritto anche nel post su facebook è come se ti senti violata in quel momento è brutto sentire un ospite strano in casa propria è davvero triste come situazione secondo me in questo caso specifico deve intervenire il comune, l'asle, chi è i clienti preposti devono fare il loro lavoro le tue preoccupazioni nascono anche dal fatto che hai due bimbi in casa e che quindi ovviamente sei stata preoccupata quando c'è stato quei due o tre giorni in cui avete capito che c'era un topo in casa io innanzitutto sono una mamma, ho due bambini bellissimi di 4 e 8 anni e loro giocano spesso fuori io ho scelto questa casa perché abito qui, pago l'affitto l'ho scelta proprio perché potevano giocare se tranquillamente non ci sono macchine possono andare in bici possono giocare a pallone, adesso ho paura anche di farli uscire fuori e ho paura di stare in casa ho paura che casa mia non sia sicura per loro che questa esperienza possa trasmettere delle malattie nonostante sia stata fatta la bonifica dell'abitazione in maniera molto accurata l'ho fatta io di prima persona proprio perché volevo pulire in maniera dettagliata ogni minimo angolo però la paura c'è, la paura c'è che mi sia potuta ammalare io che si siano potuti ammalare loro sicuramente faremo delle indagini anche mediche ciò che è accaduto venerdì in realtà è l'apice di una problematica che hai già evidenzato io vedo che per esempio qui voi avete messo del topicida prima ancora c'era una trappola abbiamo provveduto in maniera autonoma a mettere trappole e topicida come hai potuto vedere stesso tu per evitare che il problema si ripresenti ripeto non è fatto neanche bene perché un animale domestico che circola potrebbe mangiare il veleno potrebbe avvelenarsi io mi devo sentire pure responsabile di una cosa del genere non va bene è proprio al di fuori delle cose di una comunità civile dovrebbe provvedere chi noi paghiamo io pago le tasse, le pago, le pago tutte vorrei il servizio che pago semplicemente questo qui abbiamo questa raccolta di acque piovane dove ovviamente anche quando non piove c'è sempre acqua stagnante erbacce, possono cascare frutti dagli alberi e in corrispondenza comunque delle fogne questo fa sì che i topici ci vivono benissimo poi c'è l'incuria del comune perché qui la pulizia delle strade è avvenuta solo stamattina dopo che io sono finita sui giornali per un incidente domestico che ho avuto a causa di un topo che mi è entrato in casa penso che sia assurda come situazione perché noi tutti paghiamo le tasse siamo qui pronti a dare anche una mano perché il comitato di quartiere qui funziona bene siamo una bella comunità il fatto sta che il comune viene ritira la spazzatura dai bidoni ma non ho mai visto la nettezza urbana passare nelle strade limitrofe questa è una strada comunale la bonifica la deve fare il comune non è detto che ci dobbiamo preoccupare noi cittadini di bonificare comunque la situazione è paradossale stamattina ho fatto il giro di vari uffici per cercare di risolvere la situazione mi hanno detto che la derattizzazione era già prevista che una volta al mese viene fatta questa derattizzazione e che adesso l'hanno anticipata per questo quartiere proprio per quello che mi è successo le preoccupazioni vengono riportate anche su tutto il territorio del comune di Salerno dove si ha questa problematica il problema principale è che tutta Salerno vive in questa situazione io ho sentito tantissime persone che mi hanno detto che i topi circolano ovunque lungomare ne è piena ed è una strada per il lungomare di Salerno invidiato da tutto il mondo ce lo vengono a visitare i turisti e non solo perché ci sono le luci d'artista ma perché Salerno è una bellissima città però vedere i topi camminare per strada poi diventa qualcosa di oddio ma è una città allora sporca io vedo altre città italiane dove passano i camion che lavano le strade mai visti a Salerno mai è successo una cosa del genere quindi vuol dire che manca all'apice qualcosa noi cittadini ci dobbiamo impegnare a essere più civili non dobbiamo sporcare le strade non dobbiamo lasciare residui di cibo per far sì che i topi possano banchettare benissimo ma ci sono i bidoni dell'immondizia sul lungomare? ci sono i bidoni dell'immondizia sul corso nelle strade principali? noi dobbiamo fare la raccolta differenziata va bene bastano quei bidoncini piccoli davanti ai portoni per un condominio che ne so di 7-8 piani non dobbiamo fare la raccolta differenziata non dobbiamo fare la raccolta differenziata